buongiorno e ben ritrovati alla strategy per l'ultimo video sul argomento dei nodi lunari e del loro passaggio sull'asse ariete bilancia oggi parleremo come promesso nel secondo video di un altro aspetto a cui porteranno a riflettere i nodi lunari sull'asse ariete bilancia che è quello di riconsiderare anche chi è la vittima e che il carnefice si come avevamo visto nell'ultima puntata vi è questo riconsiderare la filosofia dietro il giusto e lo sbagliato il bene e il male adesso analizziamo invece questo aspetto di vittima e carnefice perché dietro al bene al male a chi fa del bene e a chi fa del male c'è anche poi di conseguenza chi è vittima cioè colui che ha subito il male altrui e chi è il carnefice tutti questi sono argomenti filosofici che portano appunto le valenze duali della riete e della bilancia dove c'è il bene il bene per gli altri e la giustizia per tutti rappresentato rappresentato dalla bilancia e dall'altra parte la riete che ciò che è bene per me che mi permette di realizzarmi nella società indifferentemente dagli altri o dal volere degli altri e in maniera più interessata al proprio bene che a quello degli altri quindi non per forza a far del mare agli altri ma a far del bene per se stesso come una cellula distaccata dal resto della società mentre la bilancia l'archetipo della bilancia ci invece ci porta invece a pensare all'altro ad essere funzionali in un ambiente composto non solo di una della nostra identità ma di tante identità che devono collaborare funzionare bene trovare un equilibrio appunto insieme così come rappresenta bene il simbolo alla simbologia della bilancia quindi ecco perché abbiamo parlato di tutti questi aspetti fino adesso aspetti molto introspettivi e psicologici perché appunto questa è una prerogativa del segno della riete la riete è quel quel segno che ha a che fare con la testa con la parte cerebrale non indica diciamo i pensieri come lo farebbe mercurio quindi la nostra attività neuronale perché la riete ha un lato impulsivo colui che agisce ancor prima di pensare tutto sommato noi con la riete però siamo spinti all'azione e ogni azione parte dalla testa da un ordine neurale che parte appunto dalla testa ecco perché la riete rappresenta la testa non rappresenta per forza il ragionamento complesso ma la presa di decisioni in base a quella che sarà la nostra nuova identità che scopriremo con il nodo nord in ariete e per creare una nuova identità occorre passare all'azione ma allo stesso tempo riflettere per poter prendere le decisioni quindi ecco perché la riete nonostante non è riconosciuto come l'archetipo del pensiero ha comunque una funzione cerebrale decisionale la quale bisogna comunque sempre passare prima di prendere le giuste decisioni la giusta azione e qui si tratta di una filosofia veramente spicciola infatti si tratta di pensare alle basi del pensiero che permettono poi l'azione quindi occhi alla base della nostra azione della nostra identità primordiale che sono concetti proprio base vittima carnefice giusto sbagliato proprio la capacità minima di calcolo basata sulla dualità che poi ci porta all'azione ecco perché questo periodo dell'asse dei nodi unari sull'archetipo della riete e della bilancia porta comunque un lato molto psicologico molto filosofico oltre che a quello dell'azione prettamente retina e della giustizia prettamente bilancina bene quindi lanciamo questa puntata su le vittime e i carnefici chi sono le vittime chi sono i carnefici e vediamo come i nodi lunari riconsidereranno questi due aspetti bipolari ma prima di iniziare lanciamo la sigla così avete il tempo di mettere like di abbonarvi al canale di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video di condividere il video alla fine se vi è piaciuto eccoci alla strategia per spiegare un po questo concetto di vittima e carnefice che è un sottoprodotto di quello che è invece il concetto di giusto e sbagliato di bene e di male chi è nel giusto chi è nell'errore chi sta espletando il bene chi sta espletando il male e di conseguenza chi sono le vittime e chi sono i carnefici questo lo si può già vedere per quanto riguarda la situazione pandemica che ci ha messo alla dura prova e lo capiremo sempre di più anche sull'aspetto vittima carnefice abbiamo concluso l'ultimo video parlando del fatto che siamo stati tutti nel contempo vittime carnefice anche chi ha subito lo stato siccome non siamo capaci non siamo stati capaci di opporci e non siamo a livello globale tutti arrivati a un certo potenziale di sviluppo critico di sviluppo animico e di sviluppo spirituale siamo ancora tutti in preda alle scelte individuali non siamo una società capace di scegliere dal basso abbiamo bisogno di qualcuno che ancora ci ordini dall'alto e che filtri un po le energie di cambiamento che vengono direttamente da ancora più in alto che sono le energie planetarie che ci spingono e indirizzano tutta l'umanità verso una certa direzione non potendo opporci a chi sta in alto e chi subisce i nostri capi che subiscono queste esigenze se vogliamo planetarie ognuno fa come crede ognuno gioca la vittima il carnefice ognuno può fare del bene può fare del male indipendentemente da ciò che è bene per tutti e ciò che è giusto in assoluto la libertà del proprio corpo di fare ciò che si vuole del proprio corpo è una giustizia assoluta ma noi per nostro ego per la nostra ristrettezza di conoscenza di ciò che è bene e male di ciò che è giusto e sbagliato non riusciamo appunto ad onorare alcune verità universalmente giuste come quella del della possibilità di essere di rimanere integri nel proprio corpo e di scegliere quello che è meglio per noi quindi nella situazione pandemica siamo stati tutti un po vittime carnefice vittima quando ad esempio nell'ambiente ospedaliero chi ha dovuto comunque inocularsi nonostante non lo voleva o chi ci credeva nella scienza e si è inoculato comunque senza chiedersi cosa potesse essere e quindi è stato anche in questo caso inconsapevolmente vittima vittima sono state anche dall'altro lato chi ha abbandonato il lavoro chi ha dovuto entrare in una crisi economica e chi ha dovuto suo malgrado dover cambiare alcune cose o vivere nelle ristrettezze nella povertà cosa che non avrebbe mai immaginato di fare e il carnefice lo si può immaginare come lo stato o come gli sbracciati che che magari hanno puntato il dito su chi invece non voleva accedere al ricatto ma adesso tornando al presente possiamo identificare molto il concetto di vittime carnefice da rielaborare nella questione della guerra ritorna sempre a galla la diatribia fra l'aggressore e l'aggredito chi è la vittima e chi è il carnefice in una situazione bellica per entrambi i fronti per il fronte nato gli aggressori sono la russia per il fronte russo gli aggressori sono la nato e questo è già un primo aspetto della questione vittima carnefice molti mi potrebbero dire no ma la conosciamo tutti la storia sappiamo chi ha iniziato ad accendere il fuoco in ucraina che non è come sembra che non sono stati russi lo sappiamo c'è scritto c'è scritto non nella storia ma nei fatti chi ha seguito un po di geopolitica fino a molti anni prima degli eventi che stiamo vivendo adesso sappiamo che fin dal 2014 se non sbaglio la nato stava agendo in maniera espansionistica aveva creato situazioni belliche a livello del donbass che mettevano il donbass in crisi avevano perpetrato delle persecuzioni e anche delle guerre delle uccisioni di russi sul suolo ucraino e quindi sappiamo bene poi come lo scopo finale era quello di insediarsi e di far entrare il governo ucraino nella nato per poter insediare poi ancora ulteriori armi in ucraina e per poter fare ancora più pressione sulla russia che una russia che si oppone al nuovo ordine mondiale perché crede ancora nel multipolarismo e nel governo degli stati nella sovranità degli stati indipendenti non sottoposti a un nuovo ordine mondiale sotto la guida di alcune società segrete massoniche e quant'altro quindi dal nostro punto di vista i fatti li sappiamo li conosciamo e possiamo dire a differenza di quello che dice la stampa mainstream possiamo dire che l'aggressore è la nato e che l'aggredito è la russia e per evitare appunto che questa cosa continui come lo è stato in passato adesso effettivamente l'aggressore è chi è passato alla guerra chi ha invaso un altro paese è la russia quindi vediamo come la cosa è molto fine in un certo senso però anche qui possiamo cominciare a porci delle domande siamo sicuri che anche dal nostro punto di vista putin è davvero il salvatore che sia davvero colui è nel giusto colui che vuole rimettere ordine a questo disequilibrio creato dalla nato non rispettando i patti storici che erano stati creati appunto per mantenere un equilibrio e qui viene anche l'equilibrio bilancino per creare stabilità fra gli stati che è venuto meno e ora magari cercherà di ristabilirsi con il nodo sud in bilancia quindi anche dal nostro punto di vista possiamo mettere la mano sul fuoco nel dire che putin non c'entra niente in tutte quelle decisioni a livello geopolitico che sono prese dai governi occulti per creare il nuovo ordine mondiale fra cui c'è l'agenda 21 con tutti i suoi obiettivi fra cui c'è ciò che era scritto su pietra proprio non è un eufemismo proprio era scritto su pietra su delle tavole che poi sono state battute che erano le georgia guidstone fra cui vi era anche la diminuzione esplicita della popolazione per poter raggiungere quegli scopi dell'agenda 21 e dell'agenda davos che non sia in un certo qual modo anche putin giocandosi il ruolo dell'aggressore diabolizzato per come lo disegna la stampa ufficiale o del salvatore per come invece lo disegna la stampa alternativa bene io personalmente non ci metterei la mano sul fuoco perché se putin veramente volesse o avesse voluto giocare per il bene a favore del bene a fianco del bene e mettere fine a tutto questo tutta questa moria della guerra avrebbe potuto conquistare con le sue forze l'ucraina a molto meno tempo tant'è vero a conferma di quello che sto dicendo lo stesso esempio che potremmo portare è lo stesso esercito che stava appoggiando le mire belliche di putin che era l'esercito della wagner questo esercito diciamo esterno fatto in parte o in gran parte di stranieri putin stava usando per non attingere direttamente alla propria popolazione a mandare in guerra la propria popolazione bene vi è stato lo scandalo della wagner dove appunto il rappresentante di questo esercito ha detto che putin in realtà non stava facendo il massimo per mettere il tutto l'esercito di questi inviati speciali mettere a loro disposizione i migliori armamenti per poter concludere portare a termine questa guerra e poter portare questo esercito invece che a morire portarlo a vincere certo magari a discapito dell'esercito ucraino se non avesse creduto però almeno tutta questa moria tutto questo buco nero che si è venuto a creare nell'ucraina dove cadono vite centinaia e migliaia giorno per giorno non si sarebbe creato quindi potremmo anche pensare che in un certo senso putin fa parte del progetto di spopolazione attraverso la morte che viene attraverso gli sbracciamenti e ora anche attraverso la guerra tant'è vero che poi anche macron con la francia si sta preparando i recrutamenti anche la von der leyen ha detto che ci vorrebbe un esercito pane europeo di inviati volontari quindi si vuole prolungare probabilmente si vuole prolungare la guerra e le morti nella zona ucraina sia da parte dell'europa sia da parte della russia potremmo anche pensare a discolpa di questa mia affermazione o a discolpa di putin che magari anche se lui vuole agire nel bene e con le mani legate perché ma noi non sappiamo i limiti che gli sono stati imposti oltre i quali non andare i limiti imposti magari dalla nato minacce magari da parte dei paesi nato che oltre un certo tipo di azioni da parte di putin sarebbe scattata la guerra vera e propria e quindi putin si contiene cerca di limitare i danni perché anche lui è con le mani legate ma in buona fede ecco tutto è possibile quindi anche la questione vittima carnefice vediamo che non è così netta così come può sembrare anche se noi pensiamo aver fatto la scelta giusta e di parteggiare per il buon campo perché ci fidiamo della nostra conoscenza storica ma chi ci dice che questo non è un progetto globale di morte e non semplicemente una guerra di buoni e torniamo al concetto di buoni e di cattivi di vittime e di carnefice e magari entra entrambe le fazioni ancora una volta sono come ho detto ieri composte sia da buoni che da cattivi in entrambe le fazioni magari c'è una volontà crudele di mantenere in vita questa guerra per creare in ucraina un cimitero a cielo aperto e portare avanti il piano di spopolamento dopo questa lunga disamina sui nodi lunari sull'asse ariete bilancia ne potremmo concludere che buona parte di questa stagione 9 è nella tematica dei nodi lunari sull'asse ariete bilancia e queste tematiche appunto che abbiamo trattato perché infatti la stagione 9 si chiama nulla e come sembra ha fatto pensare a questo titolo in realtà non la questione dei nodi ma la presenza di saturno in un segno ambiguo come quello dei pesci quindi un saturno che rappresenta la concretezza entra in un segno della dissoluzione dell'ambiguità della non concretezza della fantasia dell'imbroglio a volte ecco perché un pianeta che deve assicurare la concretezza materiale la verità in un certo senso un saturno che poi in bilancia giustamente esaltato quindi saturno in un certo senso ha anche a che fare con le valenze bilancine della verità bene in un segno come quello dei pesci il senso del concreto può venire a perdersi e quindi nulla è come sembra e questa presenza dei nodi lunari sull'asse ariete bilancia potrebbero accentuare questa cosa come abbiamo visto in questi tre video saturno in pesci secondo la strategia doveva portare soprattutto una un cambiamento una ristrutturazione verso una nuova religione forte che possa rimpiazzare questa religione morente cristiana o anche tutte le religioni antiche se vogliamo e per farlo appunto bisogna passare in un momento di confusione in un momento dove appunto le nostre credenze cadono quindi nulla è come sembra nulla è come crediamo questo lo si potrà fare questa nuova religione potrà essere frutto della nuova religione aliena mista magari alla nuova presenza dell'intelligenza artificiale che man mano che la scopriremo ne scopriremo appunto le potenzialità e potremmo considerarla quasi un dio un dio capace di gestire tutta l'umanità una religione che però chi vi aderirà senza portare avanti invece l'esame principale di passaggio all'era dell'acquario che consiste nel portare con sé quello che avremmo dovuto imparare in 2000 anni di reincarnazioni che è la fede in gesù chi sarà attirato da queste nuove religioni attraverso saturno in pesci perderà completamente la bussola e saranno le nuove vittime così come lo sono stati gli sbracciati per rientrare sempre nell'argomento vittima carnefice saranno le nuove vittime al pari degli sbracciati quindi fra tutti noi che abbiamo passato la prova la grande prova degli sbracciamenti e che siamo passati in un certo senso non per carnefici ma neanche per vittime bene non tutti siamo ancora in salvo perché ne ho parlato in tanti video potete andare a vedere che riguardano i quattro cavalieri sebbene abbiamo superato il primo che è quello della scienza medica e poi ci sono gli altri due che molti di noi spero che seguono la strategia supereranno che sono quello legato all'alimentazione al green quello legato alla nostra identità anche sessuale poi c'è il quarto cavaliere che invece riguarda una sfera più spirituale ed è un cavaliere che si può manifestare effettivamente attraverso saturno in pesci con la tematica dell'intelligenza artificiale o dell'alieno o entrambi chi si farà sedurre da questa nuova religione dimenticando che per passare all'era dell'acquario bisogna apportare quello che si è imparato in 2000 anni e quindi la fede nel cristo bene queste persone si perderanno così come si sono persi l'ottanta per cento degli sbracciati così si perderanno fra di noi un altro probabilmente un altro 80 per cento di persone che non hanno saputo fare la giusta scelta spirituale e noi invece che seguiamo la strategia o noi che seguiamo l'astrologia e quindi ci stiamo in un certo senso separando stiamo andando forse stiamo abbandonando le vecchie religioni per andare verso qualcosa di più new age ma l'astrologia non è new age come l'alieno o come l'intelligenza artificiale o come tanti miscugli religiosi tipici della new age astrologia e scienza spirituale antica che sta agli albori di tutte le religioni è una sorta di scienza filosofica dello spirito delle religioni l'astrologia è quasi come una rete base è una rete primordiale su cui si sviluppano le religioni è come la matematica base di tutte le religioni di tutte le formule matematiche ci può essere una formula matematica che spiega un certo fenomeno ma poi c'è la base che la matematica in generale da questa matematica puoi creare formule così come dall'astrologia puoi avere una base spirituale su cui poi si creano le religioni e le religioni poi sono tutte valide perché ogni religione funzionale a l'era che stiamo vivendo tranne quelle religioni che poi si istituzionalizzano così come Gesù che ha creato una corrente utile per i duemila anni dell'era dei pesci che poi è stata istituzionalizzata nella religione cristiana e abbiamo visto oggi la religione cristiana a servizio di chi è veramente che non è a servizio di Gesù ecco perché l'astrologia non è una disciplina o una religione deviante è semplicemente un'osservazione un metodo spirituale di osservare la realtà però molti cristiani dicono ma attenzione anche alla new age mettendoci dentro anche l'astrologia alle nuove religioni mettendoci l'astrologia che non è new age né religione ma perché dicono questo perché quando il loro pensiero che poi è anche giusto così come viene esposto porta all'immobilismo e alla fatalità perché uno ha tendenza a dire non ho bisogno di migliorare perché tanto tale pianeta mi dice che dovrò fare questo tale pianeta mi dice che le cose dovranno andare così e quindi non c'è quella quella spinta a voler cambiare voler diventare migliori cosa a cui invece le altre religioni o la religione cristiana dovrebbe portare ma in realtà non è così appunto l'astrologia è solo un metodo d'osservazione un metodo spirituale base di osservazione capire perché alcune cose avvengono ma non rimanere schiacciati dagli eventi come eventi impossibili da cambiare sebbene alcuni eventi sono effettivamente impossibili da cambiare ma soprattutto qui parliamo degli eventi a livello globale è diverso invece a livello personale e sappiamo che solo un pazzo può combattere contro i mulini a vento contro strutture più grandi di sé e che rispondono a certe energie a certe forze altrimenti significerebbe semplicemente andarsi a scagliare in quel senso sì siamo inerti ma a livello personale non siamo inerti a livello personale possiamo conoscendo l'astrologia conoscendo noi stessi fare molto per interpretare le energie e per opporsi o per cercare invece il giusto cammino per evitare certi ostacoli certe problematiche l'ostacolo ci sarà comunque verrà ma non è un qualcosa di fatale la fatalità nel fatto che quell'ostacolo verrà ma non è impossibile trarne i giusti insegnamenti se proprio dobbiamo andare a sbatterci contro affrontarlo nel migliore dei modi o magari deviare un certo ostacolo questo è possibile con l'astrologia quindi ci mantiene nell'azione e per trovare le migliori azioni dobbiamo essere connessi dobbiamo essere spiritualmente elevati possiamo essere religiosi cristiani seguire una certa dottrina che ci aiuterà giustamente a trovare la migliore via le migliori scelte tutto quello che occorre a non subire la fatalità degli eventi almeno quelli personali e cambiando al meglio e traendo il meglio dagli eventi personali inevitabili agendo al meglio possiamo agire a livello individuale anche con la nostra energia sul migliorare anche la società intera quindi è tutt'altro che fatalismo e l'astrologia è tutt'altro che è un antagonista delle religioni ebbene con questo per la strategia di oggi anche se verso la fine ci siamo spostati quasi su un altro argomento è tutto vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti